allora siamo in diretta perché stiamo cercando di risolvere un problema enorme avevamo questa sera una diretta non siamo riusciti a partire con facebook e quindi adesso proviamo diciamo a proviamo invece a farla ecco proviamo a farla direttamente su instagram abbiamo eliminato antonio poverino che tra l'altro ha approvato a diciamo a intrattenere insomma tutti quanti gli ospiti su facebook che aspettavano noi e quindi ci scusiamo che abbiamo perso luca mi vedete ecco ecco sei tornato io sto in silenzio in attesa che tu possa parlare ok 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 no 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 però perché probabilmente stavo provando a condividere il link diciamo sui nostri altri social però ho capito che quando noi ormai siamo tipo dei boomer da questo diciamo riusciamo a capire che anche noi che siamo in teoria la generazione nativi digitali no ma insomma quasi siamo comunque dei boomer per cui quando quando esco da qui praticamente non riesco più a condividere cioè non riesco più a trasmettere praticamente quindi nico intratteni tu mentre io condivido il link sugli altri social e poi e poi praticamente così almeno insomma partiamo diciamo con quello che dobbiamo dire sono riuscito credo a mandare il link al nostro tecnico che ha trattenuto prima gli ospiti perfetto perfetto e dovrebbe riuscire a postarlo anche sulla pagina facebook per chi ci vuole raggiungere cioè diciamo che noi che siamo quelli che tra l'altro ci tacciano per essere i diversi sì era quello che stavo dicendo bravo oggi ci siamo dimostrati in realtà tecnologicamente ogni tanto fallaci scusate per l'attesa allora sì intanto c'è più di qualcuno che ci scrive su whatsapp giustamente perché chiede ma quindi è saltato tutto quindi lo so qualcuno non ha instagram qualcuno giustamente diciamo non ha instagram e vabbè adesso proveremo poi a salvare se riusciamo chiaramente perché siamo appunto dei boomer vedremo se riusciremo a salvare il video e poi ricondividerlo anche su facebook per chi ci aspettava su facebook sarà indifferita ma insomma spero che sia che vada bene lo stesso insomma certo ci sarà un po' meno un po un po meno possibile di commentare in diretta quello sì però insomma speriamo che di riuscire comunque sia a interagire con 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 gli ospiti allora io direi aspettiamo qualche proprio un minuto uno perché già siamo in stra ritardo rispetto all'orario che avevamo detto però almeno proviamo a vedere se qualcuno in più riesce a connettersi e poi dopo partiamo diciamo nel senso che partiamo definitivamente promettiamo che non che non faremo più queste figure barbine quindi la prossima volta faremo prove su prove con pagine finte create ad hoc di modo che così almeno insomma arriviamo pronti a questo appuntamento diciamo abbiamo dato troppa fiducia alla tecnologia di facebook a sé stante invece forse abbiamo comunque bisogno di di farci supportare dai sistemi dal programma da semi hard che in realtà l'altra volta avevamo usato oggi pensavamo di poter evitare invece ci siamo trovati in questa situazione scomoda ok ecco iniziamo a essere già un po di persone inizia a esserci qualcuno collegato vuol dire che il link ha iniziato a girare sì 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 guarda stiamo facendo mandare il link dovrebbe essere sempre Antonio che dovrebbe postare sulla pagina di di facebook esatto così almeno anche chi sta aspettando lì riesce a seguirci allora io direi intanto partiamo perché sennò altrimenti confermo e tanto voglio dire poi ricondivideremo il video insomma in ogni dove anche una volta che finisce la diretta chiaramente abbiamo perso Antonio quindi non ci abbiamo più l'intervistatore quindi ci facciamo le interviste non così diciamo nulla altro c'è nulla a loro un show prof perché insomma in questa nuova veste sì 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 allora dunque nonostante i nostri sorrisi in realtà oggi l'argomento è tosto e anche abbastanza drammatico perché eh l'ultimo consiglio comunale è stato un consiglio comunale particolarmente eh duro diciamo anche emotivamente secondo me anche perché il tema centrale è stato quello del taglio al alle ore del dell'assistenza scolastica per allunni e allunne con disabilità della che risiedono ad Ardea e frequentano le scuole o di Ardea o dei comuni limitrofi e quindi insomma eh situazione abbastanza eh drammatica come dicevo perché insomma molti di questi bambini di fatto da inizio anno si trovano eh ad affrontare disagi dovuti al fatto che mancano le assistenti che che eh che si che supportano insomma le loro attività scolastiche eh perlomeno secondo il bisogno insomma che hanno loro di 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 questo tipo di figura e e poi diciamo poi vabbè poi il consiglio in realtà ha parlato anche di altro però è stato un consiglio fiume correggimi se sbaglio Nico anche fisicamente provante devo dire che abbiamo finito intorno a mezzanotte e e si è parlato di tanto però sì giusto quasi mezzanotte e però insomma eh di fatto questa questa questione ha occupato sostanzialmente più di metà penso del del consiglio insomma poi ci sono state altre cosine di cui parleremo però tendenzialmente questa è stata la questione centrale e io direi facciamo probabilmente un'introduzione Nico per spiegare un pochino eh non so se vuoi spiegare tu che cos'è sì perché poi diciamo la cosa curiosa di questi di questo servizio è che viaggia su sigle in continuo cambiamento quindi prima era EC adesso EPAC e chiaramente mi rendo conto che chi non è direttamente coinvolto probabilmente non riesce neanche a seguire bene a comprendere bene di che si parla posso dire anche da che l'abbiamo capito in consiglio da dal dibattito che è difficile comprendere anche che cosa fa questa questo ruolo anche per chi amministra perché ovviamente ci viene da sorridere però in realtà ovviamente sappiamo benissimo che c'è di fondo eh una distanza enorme a livello di rapporti e di comunicazione col mondo della col mondo educativo e questo è il vero problema e non è un problema solo di questo momento ma è un problema che viene da tanti anni addietro nonostante la la vicinanza degli istituti al mondo al mondo politico anche per certi versi comunque diciamo che eh quale il tema fondante del consiglio quello che ho qua tutto questo spazio è stato quello del 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 question time che ha iniziato con la nostra interrogazione su sul perché sembrava da come ci viene riportato dai familiari eh che ci fossero dettagli di ore ad alcuni studenti eh del servizio che ricordiamolo per legge è garantito quindi in realtà i ragazzi non hanno devono avere il servizio EPAC previsto dal loro pay e nonostante stiamo parlando di qualcosa di cui si discute già da circa due mesi con articoli di stampa che vanno e vengono ma non c'è mai chiarezza a livello comunicativo almeno quello pubblico prima del consiglio eh cos'è lo EPAC? Lo EPAC è come dicevi è la sigla moderna del vecchio AC è una figura che si occupa di dare assistenza agli studenti con disabilità eh affianca eh nelle sue attività l'insegnante di sostegno e l'insegnante scolastico in realtà se parliamo di una figura in più che si occupa di alcune specifiche mansioni di supporto a ragazzo con disabilità è fondamentale perché mentre l'insegnante di sostegno e questa è questione che c'è chiara a tutti che eh chiaramente è un motivo di confusione mentre l'insegnante di sostegno è della classe significa che in una classe in cui ci sono ragazzi con disabilità ci deve essere un insegnante di sostegno che si occupa del dell'integrazione e del supporto del ragazzo e del supporto al rapporto dell'insegnante con il ragazzo eh la OEPAC invece è dedicata totalmente al bambino e è quello che evidentemente durante la settimana lo aiuta sicuramente ad affrontare in modo un po' più diretto il tuo percorso scolastico ma anche la sua giornata scolastica non solo il percorso didattico ecco quindi questo è la OEPAC il problema di cui stiamo parlando è che a Tardia non solo da oggi ma ti ricordiamo che le prime manifestazioni di di piazza furono nel 2019 affrontiamo periodicamente il problema dell'aumento del carico di ore di ragazzi che hanno necessità eh del servizio EPAC e un continuo abbassarsi della soglia di di sostentamento da parte del comune e ogni anno inizio anno ci ritroviamo con questa situazione di disagio in cui i ragazzi non sanno se avranno le loro ore le ore vengono tagliate in alcuni momenti dell'anno come l'anno scorso è successo viene interrotto il servizio insomma abbiamo un un servizio che dovrebbe essere garantito al cento per cento e che tra l'altro eh potrebbe essere discretamente pianificabile diciamola così perché alla fine se l'anno scorso avevamo eh 260 se non sbaglio studenti 230 35 se non ricordo benissimo la cifra quest'anno sicuramente come è chiaro il trend degli ultimi anni tendono ad aumentare ma è una cosa di cui siamo già a conoscenza già dallo scorso anno quindi teoricamente bisogna affrontare il nuovo anno preparandosi al potenziale all'aumento degli studenti ecco questo è un po' quello che eh è il servizio webac e quello che sta succedendo ora non so Luca se vuoi spiegare te cos'è la gravi qual è la gravità chiara che abbiamo percepito noi durante l'ultimo consiglio comunale che ha causato eh secondo noi anche eh ai molti genitori presenti perché voglio dire eh un'alta presenza di persone non solo genitori ma anche operatori del settore al consiglio comunale lo hanno reso ancora più incandescente e hanno dimostrato chiaramente la possibilità anche della società civile di fare pressione sulla politica perché quello che abbiamo visto secondo me è il risultato della pressione della collettività su sulla macchina amministrativa sì sì assolutamente cioè la gravità è un po' quello che hai detto te no cioè nel senso che la gravità è il fatto che ehm non è una questione nuova quindi noi siamo già passati più o meno diciamo sullo stesso taglio eh delle ore anche se poi vabbè la vicenda era era diversa era un po' più complessa ma insomma di fatto già a gennaio c'era stato un taglio delle ore del servizio che poi è stato parzialmente ripristinato e e diciamo in quell'occasione proprio l'azione anche della minoranza aveva spinto il consiglio comunale ad approvare una mozione e la mozione diciamo sostanzialmente parlava di questo cioè parlava del eh cioè dava mandato all'amministrazione di lavorare affinché ehm affinché fosse affrontato in maniera strutturale la questione che ripeto è una questione come dicevi tu dovuta prevalentemente al fatto che rispetto al alle ore previste dall'appalto l'utenza diciamo i bambini hanno bisogno di questo servizio aumentano di anno in anno insomma e però diciamo in questi mesi noi non abbiamo visto atti amministrativi su questo e da quello che abbiamo visto il consiglio comunale in questi mesi non abbiamo visto neanche cioè non ci sono state neanche azioni diciamo al di là degli atti prodotti insomma no e quindi noi siamo arrivati sostanzialmente al consiglio comunale in cui uno non abbiamo avuto risposte in maniera eh chiara diciamo ed esaustiva su quale sia oggi la situazione quindi al di là del numero dei bambini e delle bambine che eh hanno diritto a questo servizio che è l'unico dato che è stato mostrato di fatto poi non abbiamo avuto dati diretti sul quante ore ehm vengono assegnate quante ore sono state tagliate i comma 1 e i comma 3 che sono due tipologie praticamente eh di 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 utenti praticamente cioè gravità differenti anche di 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 disabilità insomma e quindi diciamo ore diverse a cui i bambini e le bambine hanno diritto no quindi diciamo grande confusione da questo punto di vista e soprattutto nessuna risposta questa la gravità sta qui e di fatto dopo ore e ore di consiglio comunale eh l'aula ha approvato una risoluzione che non dice nulla cioè è un noi scherzavamo è un comunicato stampa praticamente cioè una cosa dove dice i consigli di maggioranza hanno a cuore tantissimo le il futuro dei bambini ma poi non non dà soluzioni questa è la drammaticità di questa cosa sta qui non dà soluzioni non mette per iscritto soluzioni al problema quindi noi non sappiamo cosa accadrà da domani mattina praticamente non sappiamo se domani mattina l'amministrazione si metterà in modo per non sappiamo cosa perché diciamo eh a parole si è paventata una possibile soluzione ma poi queste parole sono rimaste dati quindi non non c'è nulla di scritto e e alla fine ultimo elemento diciamo di gravità su questa vicenda c'è una lacerazione all'interno della maggioranza che è quello che poi ha eh ha di fatto diciamo ehm condizionato le scelte dei consiglieri molto più della pressione giusta sacrosanta legittima dei genitori in aula consigliare perché poi sostanzialmente i consiglieri di maggioranza hanno scelto di non votare la mozione presentata dalla consigliera Cofano sostanzialmente per punirla diciamo di eh subordinazione sì sì praticamente sì di fatto sì e ora io poi non scendo chiaramente sulle questioni tutte interne alla maggioranza perché questa maggioranza ci ha dimostrato di saper fare soltanto una cosa che è litigare sostanzialmente e poi rifare pace diciamo quindi c'è sempre una 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 dinamica interna eh curiosa ma che poi non produce nulla di fatto insomma come come in questa volta esattamente come in questa volta quindi quindi diciamo la nostra non è una difesa diciamo della consigliera Cofano della sua azione cioè su questo noi siamo d'accordo con quello che va scritto nella mozione ma dopodiché chiaramente non ci sorprende se se magari tra tra due mesi diciamo stanno di nuovo tutti d'amore d'accordo e chissà che fine farà diciamo questa questione questo è il eh questo nelle loro priorità insomma questo è il dramma vero insomma e in realtà Luca la percezione è che anche dalle parole in consiglio eh è uno di quei problemi a cui dovevano rispondere già tempo fa la famosa mozione di gennaio che presentammo e fu approvata all'unanimità e poi ti rendi conto che in consiglio loro si stivano a dire frasi come in tre giorni abbiamo capito come e tu capisci chiaramente che in realtà c'è stato l'immobilismo per questi mesi ecco la questione è che si rendono conto del problema nel momento in cui il problema sta creando il disagio e poi la partita interna a cui fa riferimento te tra l'altro eh è evidente anche l'aspetto di spartizione di potere no? Il settore dei sociali viene riconosciuto all'interno della maggioranza di riferimento ad alcuni consiglieri e gli altri non accettano che di che tendano di che tentino di trattare la linea in questo modo quindi con una forzatura politica all'interno della del consiglio certo è è palese che eh un problema conosciuto un problema affrontato già in passato un problema che doveva essere risolto con il lavoro nell'arco di questo anno perché se a gennaio abbiamo messo una toppa e lo sapevamo avevamo tempo fino ad oggi nove dieci mesi per trovare non una toppa ma perlomeno la soluzione integrativa ci troviamo ad oggi a cercare eh scuse perché quello che ci hanno raccontato che portato in consiglio sono scuse per provare a risolvere l'immagine una foglia di figo che quella risoluzione provano a mettere davanti al problema la domanda che mi pongo io è come se ne esce il come se ne esce da qui è una cosa complessa perché la consapevolezza che eh intanto stiamo lavorando con un principale iniziale taglio di ore buttando in caciara il problema dicendo che il problema sono le ore di assenza del sostegno che però non c'entra niente con quello che deve fare il comune nel senso lo EPAC è un servizio indipendente dal dal sostegno il sostegno sarebbe fondamentale quella come ha detto Luca in consiglio al sindaco del sindaco chiede di andare a manifestare sotto al ministero noi siamo i primi ad andare con lui quindi è un altro discorso lo EPAC lo dobbiamo fornire noi eh come dovremmo fornire eh la comunicazione aumentativa altra questione che si è affrontata in consiglio e e sul quale secondo me ad oggi non c'è nessuna risposta e probabilmente i ragazzi a questo punto la la comunicazione la comunicazione aumentativa se va bene la inizieranno ad avere forse dall'anno nuovo questa è un'altra cosa delicata che che dobbiamo essere consapevoli abbiamo trovato in questo consiglio nonostante sono temi che si che si affrontano e di cui si discute da prima di settembre perché per esempio la comunicazione aumentativa a bilancio la regione l'ha messi a giugno con la delibera regionale a giugno sono stati previsti 67 mila euro dono dai comuni noi ci troviamo al 17 di novembre a fare un altro consiglio in cui intanto prendiamo possesso di quei fondi e poi forse riusciremo a decidere che cosa fare insomma è palese che siamo indietro 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 leggevo tra le domande la l'alternativa tra luminarie e servizio allora in realtà quella delle luminarie è un'osservazione che sta fatta in consiglio ma un'osservazione che si fa anche comunemente anche al bar perché evidentemente è chiaro come su alcuni tipi di attività si riesce a programmare qualcosa e su altre no e nonostante effettivamente una somma come quella che sta prevista per luminare è una somma che avrebbe fatto sicuramente comodo a garantire il servizio quello senza ombra di dubbio quindi c'è c'è la certezza che chi tende a rallentare l'attenzione si tende a perdere il polso della situazione quando si parla di sociale questo è un po il problema di questo tipo di amministrazione assolutamente tra l'altro prima non abbiamo neanche sottolineato un'altra cosa diciamo secondo me abbastanza grave e cioè la presenza dentro quella famosa risoluzione che poi la maggioranza ha imposto e approvato da sola di un'affermazione secondo me grave che è quella di che di fatto diciamo derubrica tutta questa questione a pura strumentalizzazione politica come se poi non ci fosse un problema reale che fosse tutta un'invenzione un a scopi di propaganda no che questa diciamo secondo me tra l'altro una dichiarazione che offende innanzitutto diciamo i le famiglie insomma e i bambini più che l'opposizione o non so chi o i pezzi di maggioranza che secondo la maggioranza della maggioranza hanno cavalcato la vicenda no c'è un problema c'è un problema effettivo è un problema che come abbiamo detto non si presenta adesso per la prima volta c'è un ritardo chiaramente enorme e ammesso dagli stessi consigliere come dici tu insomma a un certo punto della discussione si vantavano quasi di aver trovato la soluzione in tre giorni ad un problema che però esiste da otto mesi nove mesi almeno in questa in questa emergenza e di fronte diciamo non c'è non c'è alcuna risposta diciamo ripeto non c'è nessuna risposta strutturale tu giustamente prima dicevi come se ne esce da questa da questa questione no e lì diciamo a un certo punto il capogruppo di frate di italia in consiglio ha paventato una possibile soluzione con di fatto una sorta di appalto che si affianca a quell'esistente no per coprire le ore che mancano per per raggiungere il bisogno dei bambini e delle bambine e questa potrebbe essere chiaramente una soluzione non sappiamo se una soluzione toppa o una soluzione che ci consente di arrivare fino a fine dell'appalto perché chiaramente non ne abbiamo discusso in consiglio una certa non sono venuti con una proposta concreta su questo no ma noi su questo ricordiamo che già a gennaio avevamo paventato tutto un un'azione anche di coinvolgimento del consorzio sociale per esempio su questo argomento qui chiaramente parliamo di cose complesse quindi che hanno bisogno di tempo e il problema è che noi ci aspettavamo che questo tempo diciamo era esattamente il tempo trascorso da quando abbiamo approvato quella mozione il 31 gennaio fino ad oggi insomma ecco questo questo non è successo insomma questo è cioè la gravità sta qui e soprattutto lo ripeto secondo me nell'incertezza che poi accompagnerà da domani mattina la situazione di questi bambini e queste bambine cosa succederà cioè che cosa di fatto l'amministrazione farà al di là della retorica in consiglio comunale e della dei fiumi di retorica di quella risoluzione approvata da domani mattina c'è qualcuno all'ufficio servizi sociali che eh si impegna diciamo a fare qualcosa e che cosa farà e questo qualcosa verrà comunque comunicato alla cittadinanza o continueremo ad assistere come abbiamo assistito in queste settimane a silenzi assordanti intervallati da comunicati stampa che non dicono nulla questo è un po' diciamo secondo me il tema grande insomma di questa di questa vicenda ehm io direi diciamo siccome poi tra l'altro in consiglio diciamo questa è stata come diceva Nico no quando prima Nico citava la CA che è un altro servizio che riguarda i bambini e le bambine che a scuola hanno difficoltà diciamo di comunicazione no quindi eh è un servizio quasi complementare a questo dell'OEPAC ma diverso comunque no e diciamo lui citava appunto questa variazione di bilancio approvata diciamo anche qui dopo praticamente quattro mesi da dall'arrivo dei soldi della regione no ehm però poi dopo in consiglio è successo anche altro no Nico quindi diciamo abbiamo parlato anche di altri argomenti anche per per diciamo eh sì forse sì no adesso gli altri argomenti però volevo giusto visto che sto tenendo d'occhio la chat dei messaggi commenti bravo esatto dei commenti ci chiedono i tempi che presupponiamo da quello che stavo detto in realtà eh Simona vedo e in realtà non è non c'è certezza di nulla perché il problema vero è non sanno ancora dove andare a prendere i soldi che serviranno perché questa è la verità e la procedura per fare anche un affido diretto prevede sicuramente qualche mese di preparazione quando facciamo riferimento alla CA la comunicazione aumentativa tenere presente che il primo i primi approcci su questo tema in via riservata con l'assessore noi del diario domani abbiamo fatti i primi giorni di settembre eh per sapere se da giugno a settembre si fosse programmato qualcosa e lì già si discuteva di come si doveva pianificare l'appalto della CA se ne è discusso nel consiglio comunale che abbiamo fatto a fine settembre in cui la nostra mozione è stata approvata in cui chiediamo di cercare fondi integrativi perché anche sulla CA non basteranno i fondi per le ore che sono necessarie per i nostri ragazzi e ad oggi siamo a fine novembre e non si tratta ancora di nulla quindi eh la sensazione è che anche per lo EPAC probabilmente ci vorranno secondo me se faranno qualcosa non prima di 60 giorni non ho aspettative di di risultati precedenti ai 60 giorni cioè io non credo che i nostri ragazzi fino a Natale vedranno il servizio che hanno bisogno questo questa è la mia convinzione poi mi auguro che ci sbugiardino eh questa assolutamente hanno chiarito se il problema è la mancanza di soldi oppure la revisione dell'appalto allora vedo la noi donne eh non hanno chiarito questo meglio l'appalto è al suo massimo alla sua massima estensione a gennaio dell'anno scorso è stato fatto l'approvazione dell'aumento dell'appalto di un quinto quello che è previsto da legge quindi l'appalto è stato eh esteso a livello economico fino al suo limite massimo previsto per codice degli appalti quindi non c'è più spazio in quell'appalto va previsto un altro appalto questa è la questione in realtà non hanno fatto menzione sui soldi anche se la solita storia del non c'entrano i condi insomma quello rimane come sottofondo però in realtà l'operazione è fare un altro appalto fare un altro affido e è questo che noi diciamo cioè questa è una roba che si sapeva già lo scorso gennaio c'era tutto il tempo per pianificarlo e iniziare l'anno scolastico con qualcosa di più concreto c'era il tempo e non si è fatto e poi come diceva Luca per invece andare a andare a scalare con cronologia gli argomenti del consiglio no se parliamo di mozioni ovviamente c'è quello sullo streaming un altro tema eh secondo me cruciale ovvero lo streaming delle commissioni eh che non è passato perché ha detta sempre della maggioranza le commissioni eh richiedono la presenza di personale che costerebbe questa è un po' la 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 semplice sintesi eh di quello che che si dice del motivo per cui poi le commissioni non possono avere lo streaming in questa consigliatura e e crediamo che invece sia importante perché noi abbiamo fatto diverse commissioni di trasparenza e non vi nascondiamo che i verbali che poi riceviamo spesso e volentieri e non voglio dare la colpa al verbalizzante perché è difficile verbalizzare un dibattito però magari sono carenti di alcuni passaggi che potrebbero essere cruciali all'interno della commissione e commissioni che faccio un salto alla fine del del consiglio comunale hanno aperto degli ispiragli importanti cioè noi lo scorso maggio forse abbiamo fatto la commissione di trasparenza sul tema del forno crematorio del tempio di cremazione via strampelli era febbraio quindi è diventata prima ancora parliamo di quasi un anno fa e da quella commissione eh si è creato un dinamismo amministrativo che ha portato a comprendere da parte dell'azienda la necessità di proporre una variante variante che è arrivata in consiglio e che effettivamente allontanerà il tempio di cremazione dalle case più vicine quindi in realtà eh le commissioni sono degli strumenti fondamentali se sono utilizzati nel modo giusto e oggi quello è un risultato che arriva a distanza di un anno e mezzo perché perché una commissione ha messo in difficoltà alcune situazioni alcune alcuni passaggi della normativa che effettivamente mettevano in in difficoltà secondo me la progettazione che era stata prevista e quindi questa variazione dato che eh andare a bloccare tutto il processo di costruzione è una cosa molto difficile e lo dico anche ai più puristi nel sacchi era più convinto di volerlo fermare io dubito che sia possibile fermarlo dato che ormai l'appalto è avanti da tantissimi anni parliamo di di una di un finance di un progetto finanziato da privati avviato nel 2016 quindi parliamo di quasi otto anni fa eh però oggi abbiamo la certezza che si andrà a spostare il tempio della cremazione a oltre 400 metri dalle case più vicine e quindi nella direzione della tutela della cittadinanza sicuramente c'è un piccolo passo avanti anche se ovviamente tardivo questo è da dircelo chiaramente ecco e di che altro si è parlato Luca si è parlato di mobilità con la nostra mozione sulla revisione del eh del piano della mobilità social della mobilità cittadina perché perché PUMS è già stato approvato dall'ultima amministrazione da uno degli ultimi atti credo che fu fatto dall'amministrazione savarese ma la normativa prevede che va aggiornato periodicamente ogni due anni circa e siamo fuori tempo massimo quindi in realtà va aggiornato e nella 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 mozione che che hanno accolto anche quelli di maggioranza è richiesto esplicitamente di mettere in mano al PUMS quindi cercare di aggiornarlo secondo le nuove eh esigenze del territorio ma in realtà cercando anche di raggiungere gli obiettivi che non sono stati raggiunti dal vecchio PUMS perché la verità è che gran parte di quegli obiettivi non sono stati raggiunti e anche andare a individuare una figura nell'amministrazione che abbia la delega ai trasporti perché abbiamo visto in questi mesi di dibattito sul tema trasporti che effettivamente non c'è un un assessore che ha questa delega e quindi ci si spera che poi il consiglio comunale venga ascoltato in questo. Sì sì assolutamente sui trasporti tra l'altro io guarda aggiungo anche questa cosa qua perché eh al di là poi della mozione insomma che abbiamo fatto e che è stata approvata io penso che lì sia proprio importante ehm sottolineare la dinamica nel senso che noi più o meno un anno fa lanciamo questa petizione online per chiedere in quel caso diciamo eh all'amministrazione comunale di far pressione sul Codral e rivedere alcune corse eh che portano i ragazzi e le ragazze di Ardia ehm soprattutto nei comuni di Nitrofi per frequentare le scuole superiori che qui non ci sono e quella petizione ha in in due fasi diciamo eh ha avuto abbastanza fortuna per cui ha raggiunto anche cifre importanti insomma quasi quasi un migliaio mi sembra insomma 800 firme una cosa che per Ardia insomma è una cifra importante ed è stata quella petizione poi è stato quel numero diciamo a poi fare la differenza nel senso che questo ha obbligato l'amministrazione comunale comunque a ehm diciamo a a capire insomma che c'era un problema da questo punto di vista a chiedere un incontro con il Codral che poi c'è stato e e poi diciamo ha fatto anche da base un po' alla nostra mozione per cui per cui noi inizialmente abbiamo presentato questo ordine del giorno diciamo che di fatto chiedeva questi incontri con il Codral ordine del giorno che poi è stato superato insomma da 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 eventi che intanto ci sono stati mentre noi aspettavamo la convocazione del Consiglio Comunale per cui oggi siamo arrivati diciamo ad un'altra consapevolezza che è quella che ehm che sia necessario diciamo una regia no della mobilità cittadina che è chiaramente insufficiente come tanti servizi insomma d'Ardia ma che chiede proprio per questo che ci sia diciamo una figura all'interno dell'amministrazione che si occupi di questo tema non dico a tempo pieno ma quasi e che quindi ehm anche di riferimento al al Pums no come dicevi tu eh che capisca di volta in volta e di anno in anno quali sono le azioni da implementare piccoli o grandi che siano insomma no eh noi quando abbiamo diciamo lanciato questa predizione eh molti ci dicevano sì ma non è solo il Codral perché in realtà pure i ragazzi che vanno a Pomezia e si servono diciamo del TPL con Lazio Mobilità eh insomma spesso si trovano a dover affrontare gli servizi autobus pieni eh corse che non tengono conto degli orari di entrate e di uscita no oppure delle delle ubicazioni delle succursali no eh e quindi questo l'abbiamo ripetuto anche il Consiglio Comunale per dire guardate che su questo insomma c'è bisogno di un cambio di passo abbiamo l'opportunità di avere un piano diciamo un documento che è questo piano urbano per la mobilità sostenibile che è un documento che per sua natura diciamo dinamico nel senso che eh prevede delle azioni che poi vanno verificate implementate cambiate modificate e e questo è un lavoro diciamo che chiede appunto che ci sia un un ruolo da questo punto di vista che oggi non c'è perché ricordiamo nelle delle che diciamo nonostante il i commenti eh spesso scomposti aggiungo io diciamo dei di alcuni consiglieri sui social perché prima noi ci criticano perché siamo sui social però poi dopo loro diciamo parlano una bambera eh nonostante quello che dicono i consiglieri non non esiste cioè noi non abbiamo un assessore ai 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 trasporti e alla mobilità perché diciamo la definizione del tema di cui si occupano gli assessori avviene tramite la delega del sindaco e il sindaco non ha mai assegnato diciamo questa delega specifica insomma poi se ne occupa abbiamo capito perché è intervenuto in Consiglio Comunale l'assessore Quartuccio e credo anche l'assessore assaiante perché ha firmato il comunicato insieme a Quartuccio diciamo quando c'è stato l'incontro sul Codral ne prendiamo atto ma non è il loro ruolo insomma almeno non ufficiale insomma ecco quindi da questo punto di vista è stato un bene approvare quella mozione perché la mozione prevede proprio questo cioè prevede che questo tema sia una delle priorità dell'amministrazione comunale che ci sia una figura che si occupa di questo e che ci aggiorni poi su quali sono diciamo le i frutti del suo lavoro e del confronto con le scuole con le vite che si occupano di trasporto con le famiglie con gli studenti anche insomma quindi diciamo volevo solo sottolineare questo fatto che comunque questa azione qua è un'azione andata in porto non solo per la nostra mozione ma soprattutto perché diciamo c'è stata questa petizione online quindi diciamo che è una vittoria di tutti quelli che hanno firmato la petizione ecco insomma quando i meccanismi di democrazia e di partecipazione funzionano secondo me è giusto non prendersi il merito ma darlo insomma a chi ha sostenuto diciamo questo tipo di azione. Guarda se posso interromperti questa cosa che stai dicendo è focale su tutti e tre gli argomenti che sono stati importanti all'interno del del consiglio perché i trasporti è stato fondamentale l'attenzione della cittadinanza che ha firmato la petizione quasi mille firme e anche quelle mamme che hanno rilanciato il tema quest'anno e risotto ponendo all'attenzione media mediatica sul forno crematorio uguale c'è stato il movimento di un po' di persone soprattutto delle 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 persone che alcune famiglie che abitano qui nel territorio vicino al cimitero e anche alcune associazioni attente alla salute dei cittadini che si sono mobilitate e hanno iniziato a innescare un meccanismo di attenzione sul tempo della cremazione stessa cosa webac genitori e sindacati attenti al tema si sono mobilitati e abbiamo raggiunto degli obiettivi o meglio delle intenzioni ci hanno raccontato delle intenzioni su quella ancora non abbiamo delle delle certezze però che significa che è evidente che la partecipazione e l'impegno da parte della della società civile supera sempre almeno purtroppo in questa fase politica di questo momento supera sempre la capacità di intervento dell'amministrazione e la società anticipa sempre i problemi che poi verranno fuori dal territorio quindi questa è una cosa che va sottolineata perché credo che in un'epoca di scoraggiamento bisogna ricordarci sempre che da qui che cambiano le cose dalle persone che si mettono in moto questa cosa è importantissima diciamo che fatto questo escurtus avendo fatto un passaggio su quali cose abbiamo affrontato in consiglio dimenticavamo abbiamo affrontato alcune variazioni di bilancio una è quella su cea dove hanno messo i soldi della regione tra l'altro sempre sempre senza dare seguito alla mozione di settembre perché nella mozione chiediamo di mettere più soldi al momento ci sono solamente soldi della regione si stanno cercando i fondi quindi capiremo questi fondi quando arriveranno è saltata la convenzione con l'ater per degli errori di forma quindi dovevamo approvare la una convenzione con l'ater per cedere diritti superficie delle case popolari che si trovano a via carlo puerio convenzione che dove essere firmata negli anni settanta quindi parliamo di di epoche epoche fa e dal settanta quattro se non sbaglio e che invece è stata rimandata perché il testo che è arrivato in commissione è stato modificato il testo della convenzione che è arrivata in consiglio comunale invece era quello precedente quindi non si poteva votare per lo meno l'abbiamo segnalato che che c'era un passaggio che mancava e una delle altre cose che è passata abbiamo detto il cimitero e e poi abbiamo visto ecco tante ore di retorica no luca retorica 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 e i conflitti interna della maggioranza sì questo è stato un po diciamo è stato un po il consiglio questa cosa che tu dicevi è importantissima della partecipazione secondo me segnerà anche cioè alla domanda che cosa succede ora per esempio mettiamo la questione oepac che perché diciamo probabilmente quella non risolta non del consiglio comunale quindi anche quella che preoccupa un po di più penso le famiglie noi insomma diciamo le persone che si occupano di questa di di questo servizio ma anche i cittadini e cittadine insomma normali che hanno i figli a scuola insomma no con quei bambini e quelle bambine e quindi diciamo che io penso che la risposta passi anche da questo no da quanto poi la città si lascia coinvolgere da queste questioni no per cui non da quanto diciamo riesca a non a non smettere di lottare diciamo su questa su questa questione qui no a me faceva un po ridere questa cosa dei soldi no perché poi si dice sempre no i soldi perché non ci sono i soldi ecco sarebbe interessante capire poi alla fine di questa vicenda se come penso e come da un certo punto di vista spero nel senso che comunque io fare così se le famiglie faranno ricorso denunceranno e magari otterranno diciamo delle 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 vittorie anche da un punto di vista giudiziario insomma no nei tribunali sarebbe interessante capire poi quanto il comune avrà speso noi spese legali in cause visto che noi diciamo da quando siamo consiglieri comunali per ogni consiglio comunale c'è almeno una causa passata in giudicato con soldi che dobbiamo rimettere a bilancio no non si fa mai non si fa mai diciamo il conto poi no di di quanto questa queste cose costino no e quindi si fa diciamo si fa soltanto un discorso economico spicciolo no di no beh non ci sono i soldi i soldi poi diciamo ci sono sempre perché poi come abbiamo detto in consiglio comunale sono le priorità che poi definiscono se ci sono i soldi no quindi è chiaro che se questa è una questione a cui a cui teniamo e come giustamente dicevi tu in consiglio comunale abbiamo visto fiumi di retorica su questo e poi dobbiamo farlo vedere proprio dai soldi che ci mettiamo insomma quindi se è una questione prioritaria i soldi ci sono li togliamo da altre cose non solo le luminarie insomma ci stanno diverse voci di bilancio da cui possiamo prendere i soldi insomma ecco però ecco sarebbe pure interessante alla fine capire quanto abbiamo speso per questa vicenda qui no quindi quindi su questo diciamo secondo me dobbiamo continuare a mantenere l'attenzione alta dobbiamo continuare a capire poi quali azioni mettere in campo noi chiaramente lato diciamo consiglio comunale i lavoratori le lavoratrici le famiglie le famiglie sia dei bambini che hanno diritto diciamo a quell'ora di servizio ma sia ripeto le famiglie che hanno i bambini i propri figli in classe con bambini che hanno diritto a questo tipo di servizio non so perché è un problema di tutti non è un problema soltanto di alcuni no quindi più si mantiene alta l'attenzione su questo e più secondo me avremo possibilità comunque sia di raggiungere un obiettivo diciamo soddisfacente e sostenibile e di raggiungerlo perché a questo punto il fattore tempo è un fattore importante nel più breve tempo possibile perché come dicevi tu se noi lo raggiungiamo a gennaio già è tardi abbiamo perso tre mesi di scuola insomma che non sono pochi chiaramente ecco su questo insomma e mentre ma mentre parliamo di partecipazione a questo punto diciamo c'è anche un altro tema da introdurre poi chiudiamo penso che sono anche diciamo quali a proposito di partecipazione quali sono diciamo le prossime iniziative le prossime azioni che comunque sia metteremo in campo non non solo e non tanto chiaramente adesso ci spostiamo dal discorso diciamo dell'ultimo consiglio comunale anche ad altre iniziative fuori dal consiglio comunale e però insomma ce ne sono almeno due penso nico che che non possiamo non menzionare anche chiesto alcune già abbiamo iniziato a lavorare da mesi e quindi è giusto che su questo diciamo che il lavoro dei gruppi alle spalle nostre no perché noi facciamo il lavoro in consiglio ci occupiamo di di provare a portare l'attenzione della della cittadinanza in consiglio credo che a volte riusciamo a volte è faticoso ma non mi nascondiamo che è veramente difficile ma siamo orgogliosi di avere alle spalle diciamo dei ragazzi con cui lavoriamo delle delle persone con cui lavoriamo che invece portano avanti dei lavori simili a quelli che abbiamo fatto in passato non so se chi ci conosce a più tempo ricorda il report sulla scuola no e quindi oggi c'è un lavoro che integrativo che si è fatto e non solo con con il lavoro del direttivo di al dia domani ma anche collaborando con altre porte politiche alternativa alla maggioranza e a breve ci sarà la presentazione del questionario non so se qualcuno ricorda un tempo fa ha girato un questionario sulla sicurezza della nostra città che abbiamo elaborato che abbiamo chiesto di a cui abbiamo chiesto di rispondere in maniera anonima e questo questionario è oggetto di un'analisi da parte nostra su cui stiamo elaborando un report e il report che rappresentato a breve quindi a giorni dovrebbe uscire proprio l'invito ufficiale con la data della presentazione e ci farebbe piacere condividerlo con la con la cittadinanza soprattutto con chi ha partecipato anche perché la sicurezza secondo me è un tema delicato molto sentito nel nostro territorio a volte interpretato male e a volte la risposta è sbagliata quindi insomma è un tema su cui bisogna analizzare poi non parliamo solo di sicurezza di tipo contro la criminalità ma la sicurezza ha tanti aspetti c'è la sicurezza sociale c'è la sicurezza della cittadinanza dell'analisi dei sondaggi che abbiamo fatto perché è una cosa che è utile secondo me secondo noi a poter costruire anche delle risposte nel breve tempo possibile e poi luca alle attività delle iniziative domani dille tu insomma quelle più associative no sì sì allora diciamo noi abbiamo un appuntamento prima prima ancora di dire quell'associativa avremo un appuntamento col bilancio il consiglio comunale che sarà proprio per tornare al tema delle priorità sarà particolarmente importante perché il bilancio è diciamo l'atto più importante dell'amministrazione comunale nel corso dell'anno perché appunto ci dice come il comune quali sono diciamo le priorità del comune dell'amministrazione comunale come intende spendere poi i soldi quindi diciamo è abbastanza direi che è fondamentale perché poi tutti i vari non ci sono i soldi che anche fanno riferimento all'approvazione di questo di questo documento qua no e però diciamo al di là diciamo di delle attività consigliari come diceva nico poi ci sarà diciamo un evento che stiamo preparando per il 15 di dicembre che sarà un diciamo un tardo pomeriggio sera in cui ci incontriamo con attivisti simpatizzanti cittadini e cittadine insomma che vogliono trascorrere una serata insieme prima del natale per scambiarci gli auguri di natale e comunque anche per fare un po' il punto diciamo sulle attività associative di ardi a domani per dirci anche come immaginiamo il 2025 eh sia da un punto di vista politico che proprio associativo no perché noi chiaramente abbiamo un po' questo questa doppia natura no come arda domani quindi da un lato diciamo una forza politica civica dall'altro chiaramente un un'associazione che propone alla città anche insomma abbiamo fatto passeggiate visite guidate a insomma a siti archeologici insomma ecco ci piace chiaramente eh vivere la città a 360 gradi e permettere alle persone di viverla a 360 gradi no quindi ecco questo è un momento che unisce queste due anime e le unisce diciamo poco prima del natale un po' per scambiarci gli auguri e per e per immaginare diciamo il nostro 2025 sottolinea Luca questo evento che faremo a Natale eh lo ribadisco non è solo per gli aderenti a domani non è legato solamente a chi diciamo dentro a domani vive delle esperienze o chi ci sostiene ma insomma è aperto a curiosi a persone che vogliono conoscersi quindi eh persone che magari abbiamo incontrato in questo periodo in cui c'è stato dibattito importante su alcune questioni del territorio insomma quindi eh l'evento è un evento ovviamente da dalla forma privata ma è aperto ovviamente a a chiunque voglia venire assolutamente assolutamente sì sì credo Luca che 40 minuti è stata eh dato anche l'attesa che abbiamo fatto passare a alcuni delle persone che ci stanno osservando con Antonio eh credo che possiamo lasciarli andare assolutamente sì io non so per la nazionale che sta facendo perché poi tra l'altro abbiamo tolto diciamo ad alcuni anche la visione sicuramente più piacevole spero della nazionale di calcio e no noi vi ringraziamo chiaramente ehm eh vi chiediamo scusa insomma per i disguidi tecnici la prossima volta eh insomma saremo eccoci ci informano che perdiamo insomma diciamo che era meglio far da noi quindi alla fine e dicevo eh chiediamo scusa per gli inconvenienti tecnici la prossima volta saremo più precisi su questo insomma e daremo a questo punto appuntamento anche su Facebook a chi non ha magari Instagram cerchiamo eh anche se insomma ecco perdonere del nostro boomerismo diciamo cerchiamo di capire se riusciamo a condividere la registrazione anche su Facebook per insomma quantomeno permettere a chi non sta su Instagram di di vedere di cosa abbiamo parlato e e niente insomma quindi appuntamento chiaramente oltre che in consiglio comunale eh a questo punto con l'iniziativa che faremo sulla sicurezza e poi il 15 dicembre per per darci diciamo scambiarci gli auguri di Natale chiaramente tutte queste cose le trovate eh sui nostri canali social quindi vi daremo poi lì ehm tutte le informazioni quindi su giorno ora luogo eh quindi continuate a seguirci e niente ancora grazie a tutti quanti e buona giornata grazie e buona sera da tutti Grazie.